Siete pronti? 3, 2, 1, 4! Che c'era? Marco. Com'è andata ieri? Non ero io ieri sera, ero mio fratello. Lo fate spesso di scambiarvi? Non ho beccato. Il tuo fratello non ti ha detto niente. Il fratello non mi dice mai un cazzo. Forse siamo strani noi. Io sto bene con te. Volevo solo dirtelo. Ehi, stiamo diventando affalosi! Spazio. Vogliamo vedere che succede. Spazio.